Seconda tappa di Pitti Immagine alla Fortezza da Basso. Fino al 18 gennaio, protagonista è la moda bambino per il prossimo autunno-inverno, che ricalca un po' le tendenze per gli adulti. Un ritorno all'eleganza formale e attenzione all'ecologia con prodotti realizzati con fibre naturali. La moda junior ha registrato nel 2019 un giro di affari in crescita del 3,5%, superando la soglia dei 3 miliardi di euro, secondo le stime di Confindustria. Alla novantesima edizione di Pitti Bimbo sono presenti 553 collezioni, di cui 356 estere, il 64% del totale. Prima volta a Pitti Bimbo per Benetton, che si affianca alle marche più famose. Petit Bateau e Tridom, la piattaforma web per la piantumazione a distanza di alberi, presentano un'iniziativa di sostenibilità ambientale e sociale, un kit nascita esclusivo in cotone organico, con il cui acquisto sarà compresa la messa a dimora di una specie arborea. Ma come sempre a Pitti c'è spazio anche per i brand innovativi. Per loro torna, dopo il successo dello scorso anno, The Kids Lab. Tra le iniziative presenti alla top floor, il Fashion Comics, progetto italiano ideato da Alessandro Enriquez, che ha messo insieme sette brand per creare una collezione ispirata ai personaggi di messaggistica mobile Line, molto famosi in Asia. Il Fashion Comics è un progetto che in realtà esiste al Pitti da diverse edizioni. Quest'edizione sceglie Line Friends, che è una property coreana, che per la prima volta in Italia decide di fare questo lancio un po' più, diciamo, importante e chiede a sette designer e a sette brand di interpretare tramite delle capsule collection minimè i loro personaggi.